ma benvenuti e ben ritrovati in questo nuovo video oggi andiamo ad aprire un'altra bacchetta di harry potter che stavo cercando di capire di chi era ma adesso ci informiamo meglio allora questa scatola comunque è tutta marrona con zero scritta a parte questa sorta di harry potter tmi copierà di warren bros entertainment e recreation of the famous hound ok solleviamo e questa veramente figa come custodia ok perché vedete cioè si parte qua poi adesso spostiamo un attimo e si presenta così ok l'interno con non voglio signore signori miei eccola qua signori miei perché c'è anche questa harry potter questa ti ho questa solo di porta chiave harry potter ma ditemi che cosa sa ero perché non l'ho mai vista e questa tipo sembra un fermaglio per capelli non comprendo vedete che è la bacchetta di harry potter proprio diciamo e da come ho detto nel precedente video che si assomigliava a quella di Voldemort da questo da questa parte qua perché comunque la metà più o meno è semplice ok qua come potete vedere comunque si l'unica sempre pecca che mettono diciamo i vari copyright sopra la bacchetta però il cambio qua vedete che c'è questa sorta di lì di spacco ok qua un pochino più in alto dove c'è tutti questi siamo dei buchi l'impugnatura è fatta tipo proprio di una corteccia d'albero vedete proprio sembra proprio una corteccia di un albero che per me è scomoda cioè mi da noia tutti questi spuntini qua ok veramente però comunque dopo non so come faceva harry potter ad utilizzarla ma per me le scomoda però io non capisco questo dove 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 o che l'unica è tipo così ok chiesa sera l'unica spiegazione che è plausibile è ok appoggiare tipo così da qualche parte per farla farla vedere una sola di appoggiare con la medaglietta harry potter ok per far vedere questa di harry potter però a questo punto se se è una qualcosa per appoggiare la bacchetta dammelo qualcosa anche per tenere su di cuono oppure se è proprio d'appoggio però dietro è più pesante ha il culo più pesante quindi non si riuscirà mai trovare non si riuscirà mai trovare il bilanciamento quindi se proprio proprio è più che una cosa tipo del genere ok mi viene da pensare oppure 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 no cioè non lo so se se ce l'avete anche voi ok a chi sta guardando questo video che ne sa qualcosa di più di rispetto ma ditemelo perché sono curiosi di capire che cosa serve ok e niente dalla bacchetta di harry potter e da me è tutto e ci vediamo in un prossimo video bella